Un cordiale saluto amici e amiche di TV6 e bentornati all'appuntamento. Col meteo una nuova perturbazione atlantica sta per raggiungere il Mediterraneo a cui seguiranno altre perturbazioni, insomma un vero e proprio corridoio perturbato dall'Atlantico si estende sin verso il Mediterraneo, poi a ridosso del solstizio è probabile un nuovo rinforzo dell'alta pressione su tutta Italia, però di questo ne parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Per quanto riguarda questo martedì una giornata invernale su tutto l'Abruzzo, tante nubi specie al mattino con precipitazioni diffuse, nevose sino a quote di montagna oltre i 700-800 metri di altitudine, nevicate un po' più consistenti, oltre 1000 metri anche con diversi centimetri di accumulo. Dalla tarda mattina e poi dal primo pomeriggio avremo un graduale miglioramento del tempo, una cessazione generale dei fenomeni. Le temperature invernali le minime tra i 1 e i 7 gradi, le massime tra 5 e 10 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.